Una bellissima notizia arriva dal Regno Unito. Antonio Coppola, l'italiano scomparso giovedì 16 settembre, mentre lasciava Bow Road Station, è stato ritrovato in buone condizioni. Il giovane era stato visto per l'ultima volta da un amico dopo avergli detto che andava ai servizi igienici perché si sentiva poco bene. A riportare la bella notizia è stato un annuncio social del padre, Vincenzo Coppola. Buongiorno a tutti, vista la vostra collaborazione è giusto che ve lo dica, io prima che lo sappiate da altre fonti. La polizia ha trovato Antonino questa notte, ma per motivi di privacy e sicurezza per il momento non ci hanno detto niente. Solo che sta bene, non ho parole per ringraziarvi.